Ciao laziali! Il mercato è bollente, e ho portato un nome che potrebbe scuotere le fondamenta. Secondo Sky Sport Repubblica Ceca, la Lazio sta seguendo un talento che potrebbe brillare l'estate prossima. Questa è una di quelle notizie che non potete perdere. Commentate qui sotto e, se non siete iscritti, iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutto. Ora, andiamo al sodo. Oggi, vi porto un'informazione bollente direttamente dal mercato delle trattative, e ragazzi, è una di quelle notizie che ci fa battere forte il cuore. Secondo Sky Sport Repubblica Ceca, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Karazor, il difensore e centrocampista dello Stuttgart. Karazor, nato nel 1996 e con contratto fino al 2026, è un nome che potrebbe agitare le acque la prossima estate. Ma calma, non possiamo ignorare la difficoltà di un cambio già a gennaio. La Lazio è nota per le sue mosse strategiche, e questa operazione ha sicuramente lasciato tutti i tifosi nell'attesa. Ora voglio sentire da voi, laziali appassionati, cosa ne pensate di questo possibile tentativo di acquistare Karazor? Immaginatevelo indossare la nostra maglia. Sarebbe un rinforzo significativo per la prossima stagione, vero? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, voglio conoscere ogni pensiero della nostra incredibile tifoseria. Ah, e non dimenticate di lasciare quel like se siete altrettanto impazienti quanto me per le trattative di mercato. È molto importante per il canale, ragazzi. E, naturalmente, se ancora non siete iscritti, non perdete tempo. Unitevi alla famiglia laziale. È tutto. Ragazzi, restate sintonizzati per ulteriori novità e ci vediamo alla prossima notizia. Forza Lazio!